Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Radio Radio By Night Roma Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi, tutto quello che puoi fare di notte a Roma By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino Niente, dormi, va By Night Roma, By Night Roma Ma cos'è che c'è? Musica come me night By Night Roma, By Night Roma Ma cos'è che c'è? Musica come me night This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma Cento, Quattro, Ecciclera, FM Let's begin, let's begin Ma adesso andiamo avanti all'altra scena, speriamo di farcela Maledetto il giorno che ti ho incontrato con nuovi attori, la facciamo sentire, attenzione Loro sono Claudio e Barbara Caro Ludwig, sappi che la tua vigliaccheria supera di gran lunga la tua intelligenza Ecco volevo sapere se come primo concetto ti piaceva questo qui Ma tu dormi? Eh no, le mani addosso no, porca miseria So anche le 4 del mattino Ma per chi mi ha preso per nostaggio? E poi ti tattolizzavo a toccare i miei fogli Questi suoi fogli del libro di Hendrix No, era soltanto per chiederti un giudizio sulla parte introduttiva Senti, sai che c'è di nuovo? Ti ammette le tue lettere, non me ne fregano, le merita a ceppa, va bene? Sai che sono le ceppe? Come no? Ah, ma poi che sistema è? Ti do a casa mia per venire a scopare con il mio analista Sì, dai, perché l'intenzione era quella, dai E che poi vieni qua per appropriarti delle mie cose Sai che c'è di nuovo? Che mi hai fatto, tu parli così, mi hai fatto Ecco che c'è di nuovo Quindi sarai una puttana? Ma tu ti rendi conto della gravità delle cose che stai dicendo? Le ribadisco Chiedi scusa Tu sei la persona più invadente, egocentrica Infarcita di Dena Novelas di quarta che io abbia mai conosciuto in vita mia Ma che ingrato che sei Cioè quando si tratta della tua domina in carriera con la tuta mimetica Non la nominare, non la nominare Ma quando si tratta di me perché ho bisogno di aiuto E mi un bel caccio nel sedere Bell'amico che sei, guarda Ci siamo, ci siamo, ce l'abbiamo Gli attori, eccoli qua, microfonatissimi By Night Roma parte Parte anche la scena Si sente tutto, vai alla grandela Caro Ludwig Sapta che la tua bigliaccheria supera di gran lunga la tua intelligenza Ecco, volevo sapere se come primo concetto ti piaceva questo qui Ma tu dormi? Eh no, e le mani addosso no, porca miseria Ma so anche le quattro di mattina Ma perché mi hai preso per uno stagio? E poi ma chi ti ha autorizzato a toccare i miei fogli? Guarda che questi sono i fogli del libro di Hendrix No, era soltanto per chiederti un giudizio sulla parte introduttiva Senti, sai che c'è di nuovo? Chi a me delle tue lettere non me ne frega Un'emerita ceppa, va bene? Sai che sono le ceppe? No Come no? Sì Ah, ma poi ma che sistema è? Ti do casa mia per venire a scopare con il mio analista Sì, dai, perché l'intenzione era quella, dai Poi vieni qua per appropriarti delle mie cose Sai che c'è di nuovo? Che m'hai fatto tu, palle così, m'hai fatto Ecco che c'è di nuovo Quindi io sarei una puttana Ma ti rendi conto della gravità delle cose che mi stai dicendo? Le ribadisco Chiedi scusa Tu sei la persona più invadente, egocentrica, infarcita di telenovela sti quarta che io abbia conosciuto in vita mia Ma che ingrato che sei, guarda Quando si tratta della tua donnina in carriera è tutta mimetica, va tutto bene Non la nominare, non la nominare Poi quando si tratta di me, per compito di aiuto, un bai calcio nel sedere Bell'amico che sei, guarda Fuori, fuori, vai fuori, fuori Grazie, in chiusura proprio